Fervono i preparativi per la corsa dei Babbo Natale, terza edizione di una passeggiata per la vita. Anche quest'anno, gli Mera Family Bikers, in collaborazione con le associazioni Anzichitanza e Nicolo Serroni, hanno deciso di invitare, domenica 18 dicembre, i Nisseni a scendere in piazza vestiti da Babbo Natale, o semplicemente indossando un cappello rosso con pompon bianco, per contribuire a un'iniziativa di solidarietà, ovvero donare una somma per l'acquisto di un defibrillatore. Una manifestazione che ancora una volta sposa il connubio sport e solidarietà, un'occasione anche per trascorrere una giornata in spensieratezza e vivere il centro storico. L'appuntamento è alle ore 9.30 in piazza Garibaldi. Anche quest'anno ci siamo messi in moto per organizzare la manifestazione. Per noi questo è il terzo anno che abbiamo sposato il progetto Nicolo Serroni. Nicolo, ricordiamo a tutti, è un ragazzo che ha perso purtroppo la vita perché non è stato aiutato prontamente con un defibrillatore. Noi stiamo cercando da tre anni a questa parte di organizzare delle manifestazioni per acquistare dei defibrillatori e donarli a delle associazioni, così come abbiamo fatto negli altri anni. Anche quest'anno chiediamo l'aiuto di tutti per cercare di riuscire ad arrivare al nostro obiettivo. Diciamo che la manifestazione quest'anno sarà organizzata appuntamento in piazza domenica 18 per le 9. Faremo la donazione. In piazza ci sarà Babbo Natale, la casezza Babbo Natale, Ren, delle attrazioni, delle giostrine per le famiglie e i bimbi. Una volta che ci riaduniamo tutti facciamo un piccolo percorso cittadino. Saremo guidati dalle forze dei vigili e da altre associazioni. Facciamo 5-6 km per poi rientrare in piazza e ci sarà una degustazione e panettoni per tutti. Facendo così ci aiutate tutti a comprare l'ennesimo defibrillatore. Per cui vi chiedo a tutte le famiglie, a tutti gli sportivi, di scendere in piazza domenica 18 per aiutarci a raggiungere questo ennesimo obiettivo dell'Imera Family Bikers. Oltre a scendere in bici si può scendere anche con i pattini piuttosto che fare la corsetta a piedi. Lo scopo è quello di prendere più persone, più famiglie possibili e raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefessati.